ragazzi abituiamoci perché il calciomercato è così soprattutto nelle battute finali nico gonzalez alla juventus avevamo parlato tanto io mi ricordo anche la sera in cui sono tornato a casa e mi sono messo a registrare un video con le pizze che erano praticamente appena arrivate me le sono mangiata una sola due pizze me la sono mangiata fredda perché dovevo registrare il video su nico gonzalez dato che era un nome che era saltato fuori ormai un mesetto fa qualcosa del genere ora non ho idea esattamente della giornata però ci andiamo abbastanza indietro e ora nico gonzalez è diventato realtà nonostante quelli che erano sembrati un po gli impedimenti legati alla trattativa per la volontà di commesso bene la fiorentina il presidente della viola si sono convinti tutti la juventus ha presentato l'offerta giusta e nico gonzalez sarà il prossimo esterno destro della juventus di agomotta la prossima alla destra chiamatela come volete a maggior ragione dopo l'infortunio di wea una lesione muscolare che ci otterrà lontano dai campi da gioco per qualche partita sicuramente con la gol verona poi vedremo sulle successive dato che ci sarà anche poi la pausa nazionali dopo la partita con la roma insomma abbiamo tempo per capire gli esiti degli esami che riguarderanno sia lui che turam però la juve finalmente scocca un colpo un colpo grosso un colpo importante dopo questo immobilismo di questi mesi ecco che è arrivato calulu si è già allenato sarà a disposizione di tiago motta per la prossima partita del campionato anche perché poi proprio oggi si è fermato danilo aggiungiamo un pezzettino e se ne compriamo uno se ne fermano tre è una roba meno male la statistica è questa danilo dovrebbe essere nulla di preoccupante anche se non si sta capendo un po quello che accade intorno a danilo ieri è disattivato anche i profili social vedremo se ci saranno motivazioni legate al mercato oppure no io penso di no però mai dire mai però 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 nico gonzalez che ormai è fuori dai convocati della fiorentina da tanto tantissimo tempo anche dalle amichevoli estive diventerà un nuovo calciatore della juve la juve ha proposto la formula giusta non sono quei famosi più di 40 milioni di euro ad ogni modo stiamo parlando veramente di una cifra che secondo me è molto alta per il cartellino perché comprensiva di bonus siamo tra i 37 e probabilmente i 38 milioni di euro poi bisognerà capire quanto sarà la parte fissa quanto sarà la parte di bonus questo cambierà e non poco all'interno dei conti della serva che andremo anche a vedere in questo video mi sono preparato una piccola tabellina poi andiamo ad analizzare insieme ad oggi sembrano queste le condizioni 32 milioni di parte fissa più 6 milioni di bonus che portano il tutto a 38 poi facilmente raggiungibili difficilmente raggiungibili alcuni facili alcuni difficili questo non lo sapremo perché anche all'interno dei comunicati queste cose non vengono scritte sapremo soltanto la parte fissa e la parte legata al bonus per quanto riguarda l'ingaggio che verrà riconosciuto al calciatore pronto un contratto di 5 anni quindi fino al 30 giugno 2029 ha una cifra abbastanza alta perché stiamo parlando di 3 milioni e mezza stagione per nico gonzalez ora lo so sareste saltati già dalla sedia e starete lì chiede le dita pronti a scrivere è troppo ne abbiamo pagato tantissimo credo che vada divisa in tre parti l'analisi sul calciatore partendo a quella economica sì anche per me anche per me è stato pagato tanto al netto di quelle che erano anche altre opzioni che erano circolate ora vedremo se sancio con sei sao sono tramontati oppure no si era parato anche dia dei emi avevamo anche il rosa sulle quindi al netto di tutti gli esterni federico chiesa che sul mercato sicuramente i costi i preventivi che erano stati vatti anche su determinate trattative o quello che noi abbiamo guadagnato dalla cessione di sulle ecco oggi invece stiamo parlando di cifre un po più alte stiamo parlando di un giocatore comunque con più esperienza rispetto sulle un giocatore che ha già tante apparizioni in serie a apparizioni con l'argentina con la nazionale ha vinto due copa america non era presente al mondiale giocatore che comunque dal punto di vista dell'esperienza internazionale ci siamo anche esperienza nazionale proprio con la fiorentina ci siamo e quindi probabilmente il prezzo va su anche per quel motivo lì sono d'accordo il prezzo è elevato e io stesso a queste cifre probabilmente sarei andato su un altro profilo anche perché non stiamo parlando di prestito stiamo parlando di trattativa definitiva di un acquisto nico gonzalez sarà direttamente un calciatore della juventus non ci saranno prestiti diritti obbligo no nico gonzalez sarà della juventus anche stamattina invece avevamo ipotizzato un prestito che diventa obbligo di fronte a determinate condizioni magari anche facile per aggirare un pochettino il problema dell'iscrizione a bilancio non sarà così però su twitter grazie a pietro che mi ha segnalato questa cosa è saltato fuori che il giocatore usufruirà del decreto crescita e quindi eccoci qua ne ho fatto questa tabellina con excel spero che sia di vostro gradimento quando passò dallo stoccard alla fiorentina per 23 milioni di euro fissi più 4 di bonus per un contratto di 5 anni l'ammortamento del cartellino di nico gonzalez alla fiorentina corrispondeva a 4 milioni e 6 all'anno proprio per via del decreto crescita 2 milioni punto 5 netti a stagione diventavano 3 punto 25 lordi perché viene calcolato con un moltiplicatore di 1 e 3 la somma di 4 e 6 più 3 e 25 da 7 e 85 quindi circa 8 milioni di euro all'anno di costo di gestione per la fiorentina nei confronti di nico gonzalez più quei famosi 4 milioni di bonus che non abbiamo idea se sono stati sbloccati oppure no bla 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 comunque 8 milioni circa all'anno più eventualmente 4 di bonus la juventus va a corrispondere poi vedremo se sarà questa la cifra però dovrebbe essere 32 milioni di euro più i 6 di bonus che non vanno quindi nell'ammortamento in cinque anni abbiamo parlato di un contratto fino al 2029 il costo di gestione dell'ammortamento del cartellino di nico gonzalez per la juve sarà 6 milioni e 4 che non è tantissimo perché comunque non dobbiamo contare tutti i 38 milioni dobbiamo dividerli per cinque anni quindi una cifra comunque abbastanza abbordabile i 3.5 nette stagione col decreto crescita che viene ereditato dalla fiorentina anche con rabbio se vi ricordate avevamo parlato di possibilità di proroga del decreto crescita per quei giocatori che avevano già utilizzato il decreto crescita in italia viene un costo di 455 milioni di euro all'anno lordi per la juventus messi insieme sono praticamente 11 milioni di euro quindi ogni stagione nico gonzalez la juventus costerà 11 milioni di euro più ci sono quei 6 di bonus che girano quindi dal punto di vista economico sì l'operazione è un'operazione impattante però intelligente la juve a mettere questi bonus che quindi non vanno a intaccare tantissimo quello che l'ammortamento anno del giocatore e anche in caso necessità di futura rivendita questo aiuterà tanto la juventus e il decreto crescita sposta tanto quindi questi due accrocchi finanziari aiutano e non poco questa trattativa per un giocatore che si ripeto per me è stato pagato tanto però la juventus si è anche andata a tutelare per cercare di capire come risparmiare qualcosina e quindi questa è stata una mossa molto intelligente per la juve dal punto di vista puramente del calciatore per me è perfetto per tiago motta esterno destro nel 41414231 chiamatelo come volete esterno destro per tiago motta perfetto giocatore di piede mancino giocatore che è abile tecnicamente che è bravo nel tiro a giro è un giocatore che segna anche tanto di testa quindi una caratteristica strana anche se vogliamo bizzarra per un esterno non il più grande calciatore di rigori della storia cerchiamo di fare con quello che c'è tra blau icenico forse abbiamo qualche problemino dagli 11 metri chissà che non possono il fuori ildis o douglas luiz che in realtà la stone villa era uno dei migliori da fermo punizioni rigori calci d'angolo abbiamo già visto anche con la juventus amichevoli gli angoli li batten molto bene però noi dobbiamo concentrarci su quelle che sono le caratteristiche del calciatore come esterno destro per tiago motta è perfetto può ricoprire più ruoli può giocare anche a sinistra può giocare come seconda punta al limite in emergenza dovesse farsi male milic male blaovic male tutti per me può giocare anche come prima certo con delle caratteristiche differenti ma può fare pure il riferimento offensivo in necessità estrema non sono qui a dirvi no nico giocherà davanti non è vero assolutamente no però è un giocatore che può ricoprire tanti ruoli sul fronte offensivo quindi trovo una coerenza nel suo nome sul livello per me è un ottimo giocatore per la serie a ottimo giocatore per la serie a per ci vado a prendere in considerazione i giocatori migliori di ogni squadra mico gonzalez alla fiorentina non mettevo come punto di riferimento questo è poco ma sicuro giocatore che fa la differenza la fa in positivo come esterno nella juventus tiago motta io mi aspettavo qualcosa di più poi è ovvio che quando vai a fare questo tipo di investimenti l'abbiamo visto sì per la juventus è un investimento non disastroso perché non è un bagno di sangue ma è un investimento impattante e che va a toglierti del margine di manovra abbiamo parlato anche in questi giorni di quanto poco margine di manovra in realtà abbia la juventus per determinate trattative quindi sicuramente l'acquisto di nico gonzalez e non in prestito ma in questo definitivo va a complicare un pochettino le altre trattative a meno che non si facciano dei miracoli su su altri nomi poi con meners io ve lo ripeto per me con meners arriverà poi il dubbio il tarlo piccolino mi sta iniziando a venire perché manca troppo poco la conclusione del mercato rispondo anche così a me stesso e pur si muove quindi e calulu e nico c'è stata l'attesa poi alla fine sono arrivati quindi molto probabilmente ma ne sono ripeto convinto che con meners alla fine arriverà sarei stupito in caso contrario però c'è anche quella strada legata al triplo acquisto sugli esterni di cui vi ho parlato anche oggi nel video precedente quindi magari fate un salto vedere anche quel video lì perché secondo me è interessante avrei preferito altri profili probabilmente sì cioè se mi avessero detto sancio unico non ci avrei pensato due volte avrei preso direttamente sancio poi se la strategia è prenderli entrambi io qui alzo le mani non lo so è un giocatore che sicuramente in serie a farà la sua porca figura con tiago motta farà la sua porca figura e quindi bocca al lupo a tiago motta e a nico ora questo acquisto questo investimento andrà valorizzato giuntoli ha fatto il suo ripeto alla fine dal punto di vista economico sì è stato pagato tanto però questi accrochi finanziari mi lasciano ancora un po di speranza su altri colpi perché fosse stato invece un investimento 38 milioni secchi da pagare subito adesso senza segreto crescita avrete a con meners non prendere neanche per sbaglio invece ancora una piccola piccolissima speranza la mantengo viva perché perché ci sono appunto questi accorgimenti che mi lasciano un po da respirare c'è una boccata d'aria che riesco ancora a prendere la finestra fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti bisognerà vedere anche se arriverà a torino quando per fare le visite mediche se le ha già fatte magari con la fiorentina non lo so o se le sta facendo a firenze per accelerare i tempi ad essere convocato convocabile anche per la partita con l'allas verona tutte cose che ci diremo nelle prossime puntate ma ormai lo sappiamo due se non tre volte al giorno qui l'appuntamento ormai è fisso ciao benvenuto nico ciao